eccomi buonasera sperando che per l'ottantesima volta non mi salti anche stasera il telefonino e che si salvi il video che sennò le cacca e non ce la posso fare tutte le sere a ripetere due volte lo stesso lo stesso discorso avevo in mente 3 4 5 10 18 argomenti diversi ma a grande richiesta dopo il successone del video su asmodeo mi hanno chiesto in tantissimi di poter parlare ancora di qualche entità elevata quelle che maggiormente interessano ai più e quindi ho deciso di parlare di azazel perché intanto perché lo conosco e poi perché azazel è una figura estremamente controversa dal momento che è stata remixata nel corso della storia dalla religione per lo più monoteista come in tutti i casi mescolando insieme due personaggi differenti uno che è stato poi chiamato azazel si chiamava in realtà azazil mentre l'altro di nuovo messo in azazel era invece l'entità elevata azazel ma purtroppo la storia si dimentica purtroppo le religioni monoteiste mixano al loro favore al loro scopo le varie cose e meno ne capite più loro son contenti e purtroppo la gente i popoli quando non sanno inventano e anche in questo caso una figura un'entità elevata che a tutt'oggi è divenuta azazel nella mente dei più ha una storia rimescolata riveduta e corretta con azazil ma chi sono azazil e azazel che poi sono diventati una sorta di cocktail chiamato azazel partiamo da quello tra virgolette malevolo da quello che poi ha fatto diventare nel culto umano e soprattutto monoteista azazel il demone azazil era conosciuto già dagli ittiti dai mazdeba dalla mesopotamia dai babilonesi anche dagli egiziani in tutta la parte dell'africa che circonda il deserto azazil era un entità abbastanza grezza con l'aspetto fa unino quindi con un aspetto che ricordava i fauni umanoide con i piedi di capra e le corna da caprone che si nutriva secondo le leggende ittite e mesopotamiche dei peccati dei popoli umani ma peccati come spiego sempre non ce n'è perché non ci sono giudici eliminando la religione allora cosa succede non esisteva neanche azazil non è proprio così azazil era un'entità che si nutriva di energie l'aver peccato soprattutto in tempi antichi metteva non poca ansia ai possibili peccatori che una volta l'anno pensavano bene di lavarsi la coscienza credendo di potersi ripulire scaricando tutti i loro peccati su una capra peraltro da lì è nato proprio il letto del capro espiatorio così tanto per nozione culturale in più quindi i popoli mesopotamici cosa facevano? caricavano questa capra cercando di addossargli tutti i loro peccati dell'anno dopodiché la inviavano nel deserto la leggenda mesopotamica narra che azazil si mangiasse questa capra tanto è vero che in principio azazil era considerato il giudice mangiatore dei peccati e quindi comunque una figura seppur grottesca a favore della razza umana ma sempre secondo la leggenda mesopotamica quindi pre-abra mitica prima dell'unico dio tanto per farla papele papele a un certo punto azazil ha sempre più fame non si accontenta più della capra una volta all'anno e inizia a insegnare agli umani tutto ciò che potrebbe far nascere in loro desideri vibratori estremamente alti emozioni forti come la rabbia l'invidia la paura e quant'altro già qui per chi se ne intende per chi conosce la spiritualità o semplicemente per chi mi segue già da un po' si può dedurre che in realtà azazil non fosse altro che un'entità che si nutriva di emozioni un'entità parassita come in muta forma come i distruttori d'anima in generale come i gli elementari o come le larve astrali solo che le larve sono molto più piccolette ridotte rispetto alle altre entità nominate un'entità del basso astrale normalmente non insegna agli umani come crearsi metodi per provare emozioni perché la leggenda narra che azazil insegnò agli umani come fare la guerra ma un'entità del basso astrale normalmente vive di istinti quindi può essere che cerchi di instaurare delle emozioni forti in alcuni umani per poi nutrirsene ma non con il raziocinio di insegnargli a costruire un fucile o una balestra arriva poi la religione abramitica che acchiappando tutte le altre religioni e mantenendo anche qualche nemico comune in modo che gli adepti delle altre religioni in qualche modo potessero seguire anche loro tira fuori azazil o azazel con la s invece che con la z chi era azazel azazel invece secondo la mitologia abramitica ebraica faceva parte degli angeli caduti amico intimo di samael e lucifero di asmodeo di cui ho parlato nell'altro video di lilith che in certi tomi viene identificata anche lei come un angelo caduto non si sa bene per quale motivo e mollock poi chi c'era ancora di abbastanza conosciuti belzebu mammona e qualche altro adesso mi sfuggono tutti i nomi dei caduti secondo la religione abramitica e azazel che cumena per essere assimilato con azazil azazel secondo la mitologia ebraica viene inviato sulla terra è un angelo partiamo da questo presupposto secondo loro e viene mandato sulla terra per dare un occhio per controllare la razza umana viene mandato insieme a sai mia un altro angelo ma mentre stanno sulla terra a fare i direttori generali i mega direttori galattici si infervorano per delle donne umane ci vanno quindi insieme ci fanno dei figli e seppur a un certo punto Samia Zha si redime torna ai cieli e chiede scusa al suo dio capendo di avere sbagliato e il suo dio nella sua infinita bontà lo perdona castigandolo dentro a una grotta per 70 generazioni a Zazel non chiede perdono è convinto di quello che ha fatto in questo caso la Zazel e anzi insegna agli uomini come costruire coltelli lame non per fare la guerra ma per poter cacciare meglio e lavorare meglio e insegna alle donne il belletto come truccarsi come crearsi dei gioielli come addobbarsi e vestirsi per essere più belle questa cosa fa imbestialire il suo dio che lo punisce mandandoci la Raffaele a incatenarlo lo incatena in una grotta e stermina i figli sia di Samiazza e sia di Azazel i figli erano dei giganti anche chiamati Nephilim che sarebbero dovuti essere immortali come gli angeli ma sempre per un principio divino cioè per volontà del dio catto cristiano ebraico divennero invece con la possibilità di vivere fino a un massimo di 120 anni in principio dopo che invece Samiazza viene punito e Azazel alias Azazel viene incatenato nel deserto vengono direttamente sterminati perché il dio ebraico ce l'aveva un po' sta fissa di sterminare i figli dei figli dei figli e per questo secondo me che i padri mafiosi vanno a pregare in chiesa prima di andare a sterminare qualche famiglia con qualche faida ma così a naso comunque probabilmente le due essenze erano due essenze completamente diverse Azazel era un'entità elevata della quinta dimensione Azazel era un'entità del basso astrale estremamente energetico che si nutriva di emozioni molto forti a volte creandole anche e facendole sue nel contesto dei paesi delle civiltà intorno al deserto dove lui era solito invece stare secondo la moderna demonologia azazel sarebbe un principe degli inferni al pari di lucifero al pari di samael e al pari di asmodeo uno tra i più potenti padre viene considerato il padre di tutti i peccati del mondo sempre religiosamente parlando da un punto di vista meramente etimologico quindi solamente del suo nome quindi azazel azal dall'ebraico significa più potente el significa semplicemente dio quindi azazel risulterebbe essere il più potente di dio ora tralasciando la religione sumera antica e tralasciando la religione ebraico cattocristiana quello che viene definito azazel come entità elevata della quinta dimensione è sicuramente azazel e non azatil azazel non ama la razza umana non gli piace non è affine alla razza umana seppur sia anche lui un'entità guida di alcuni c'è anche un nostro amico che ha azazel come guida e seppur svolga comunque i suoi compiti e le sue mansioni di entità elevata anche chi lo segue in devozione e non in inemicizia quindi non come un nemico ma come un'entità elevata comunque da rispettare ha da parte sua un certo grado di serietà e di non amicizia ma comunque una sorta di sopportazione la parte sua ora oggettivamente lo hanno talmente screditato negli ultimi mille 1500 anni grossomodo nella maniera più più in fausta possibile è anche normale che gli stiamo un po' sui maroni voglio dire con tutto che è un grandissimo estremista come Michele Michele è un estremista del bilanciamento a Zazel o a Zazel perché a questo punto si parla di lui e non dell'entità del basso astrale è presumibilmente molto molto estremista della fazione del caos quindi è della libertà totale e della conoscenza totale è una figura da prendere con le pinze perché appunto non ha un buon rapporto con la razza terrestre per cui anche chi gli è fedele anche chi gli è adepto anche chi in qualche modo lo stima deve comunque sempre ricordarsi di avere una un'educazione e una reverenza estreme perché tra le entità elevate ci sono entità che sono più amichevoli verso chi le cerca verso chi le chiama verso chi le invoca e via dicendo e ci sono invece entità sempre elevate sempre della quinta dimensione che non sono particolarmente amichevoli con la nostra razza umana terrestre quindi anche con la migliore delle intenzioni bisogna sempre essere al massimo del rispetto con determinate entità questo per esempio riguarda entità come possono essere appunto azazel come per esempio andras come raffaele come anche Iaiel Sotiel Saitra ce ne sono parecchie ma tanto anche se ve le nomino le conoscete in tre diciamo che in generale quelli che conoscete maggiormente per sentito dire o per conoscenza leggendaria o meno sono appunto azazel samael raffaele e anche andras è abbastanza di nuovo conosciuto quindi il succo di azazel è questo azazel in realtà non esiste come nome è il remixaggio fatto apposta per screditare l'ennesima entità elevata da parte delle religioni monoteiste di due entità separati una elevata il cui nome sarebbe azazel e una del basso astrale meramente istintiva e anche un po' bestiale di nome azazil quando pensiamo ad azazel scindiamo le due cose perché azazil aveva la forma appunto similfauno quello che oggi viene un po' utilizzato come rappresentazione per disegnare un qualsiasi diavolo quindi i cornini o i cornoni il corpo semiumano con i piedi da capra classico anche dei satiri classico anche del dio pan e di quant'altri dei fauni in generale perché perché venne ripresa questa assonanza tra azazil il dio pan e i fauni in generale nelle prime lotte medievali contro le religioni pagane e contro i miti pagani e quindi il diavolo in generale venne rappresentato così noi troviamo tante rappresentazioni di azazel in questo modo ma non è azazel la rappresentazione del grande grosso tutto rosso con gli occhi gialli i cornini e le zampe da capra in realtà sarebbe azazil mentre azazel ovvero l'entità elevata avrebbe avrebbe un aspetto completamente differente ma agli umani si presenterebbe in forma umanoide come un uomo un uomo con una sorta di tunica una sorta di manto sulla testa e sulle spalle che gli ricade fino ai piedi con i capelli scuri e gli occhi metallici che però danno sullo scuro sull'argento scuro sul grigio metallico completamente differente che non ha nulla a che vedere con l'aspetto invece dell'entità azazil ma appunto questi mixaggi religiosi si sono poi andati a incasinare a incastrare anche nelle filosofie a volte sataniste a volte occulte a volte esoteriche portando spesso solo una grandissima confusione su questa entità elevata riassunto finale azazil non se deve considerare è un'entità malevola non perché malvagia ma malevola perché è un'entità del basso astrale che si nutre di forti emozioni azazel è l'entità elevata che poi la religione monoteista ha voluto demonizzare come per tantissime altre entità elevate anche qui io spero perché è un po' complessa se non si hanno le basi storico-culturali anche dei due vari miti e delle due varie diramazioni ma anche a farla più semplice possibile ricordatevi questo il nome azazel in realtà è solamente l'accozzata fatta dagli uomini di azazil e azazel creando questo fantomatico azazel tutto qui se doveste rivolgervi sempre con il massimo rispetto a un'entità come azazel non chiamatelo azazel e nemmeno azazil il suo nome terreno terrestre di questo pianeta è azazel con le due s detto questo vi saluto perché ce la posso farcela sono le nove e mezza ma devo fare già il video di domani sera perché domani sera sono in live su un altro gruppo e domani nel pomeriggio devo preparare un nuovo video per giovedì perché giovedì sera sono in live su un altro gruppo ancora sono ospite questa settimana da una parte all'altra e quindi presto che tardi ce la posso farcela Lady Ghost Lady Sedaco e Lady Nasrino risalutano non ho fatto canzoncine non ho fatto l'idiota come faccio di solito ma proprio per la questione del rispetto che bisogna portare a un'entità come Asasel non mi sembrava il caso di fare troppo le scimmiotate meglio sempre andarci con i piedi di piombo con certe entità anche per noi anzi per noi ancora di più dato che ne sappiamo pure di più quindi non abbiamo nemmeno il beneficio del non lo sapevo qua sotto come al solito tutti i social dove mi trovate un po' più sotto 3 o 4 dei millemila link che tengono in vendita i miei libri a ripresto che è tardi ciao